Io ho fatto veramente della mia vita, della mia vita solo quello. Tutto ho messo, molti ci mettono qualcosa, una parte, poi poi ci ritengono magari, lo so, gli amici, hanno magari una famiglia oppure hanno qualcuno, hanno qualcosa, io no, non volevo niente, non volevo niente, volevo solo arrivare lì. Grazie a tutti.